E' una storia molto speciale. Di cosa voleva parlarmi? Posso offrirle una storia molto speciale. E' col tuo soggetto. E di che parla? Stessa volta dovrai fare almeno lo sforzo di leggerlo. Vieni fuori, ci amiamo! Ci amiamo! Ci amiamo! Ci amiamo! Ci amiamo! Pensavo che come al solito sarebbe andata liscia. Tu ci metti la faccia e io la storia. Le conviene dirci tutto subito. La storia è vera. Da chi l'ha saputa, Pess? Se vuole scrivere questa storia, lei deve restare nell'ombra. Sono arrivati stanotte dalla sua mail e lui è in coma da tre giorni. Hai mai sentito parlare della natività di Caravaggio? I mafiosi l'hanno rubato 50 anni fa a un oratore di Palermo. Questo Mr. X, tu l'hai mai visto? Il nostro problema è un altro. Che conosce l'altra parte della storia, quella che non è ancora avvenuta. Non ho mai lasciato una storia a metà. Questa storia è diventata troppo pericolosa. Ne troverà sicuramente una migliore. Posso benissimo andare avanti da sola. Il titolo da riba è la sua storia. Allora Commonwealth in Italia Allora